Per continuare, questo non è un punto di attivo, è un punto di partenza, di partenza del Presidente del Paese, è un punto di bello, è un punto di forte, è un punto di crescita. Per continuare, questo non è un punto di crescita. Per continuare, questo non è un punto di crescita. Per continuare, questo non è un punto di crescita. Per continuare, questo non è un punto di crescita. Per continuare, questo non è un punto di crescita.